Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi che ci seguite da casa. La notizia del giorno ci porta a Palermo dove sono stati eseguiti due arresti per mafia e la Guardia di Finanza ha sequestrato un milione e mezzo di euro. Vediamo il servizio. Due arresti e un maxi sequestro. Il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Palermo. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Michele Micalizzi e Mario Mancuso accusati a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro di un milione e mezzo di euro. Michele Micalizzi è il boss già detenuto della famiglia mafiosa di Tommaso Natale. Mario Mancuso invece è il patron della MagiSRL dichiarata fallita nel 2021. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, riguarda la bancarotta fraudolenta della società che gestiva la gelateria a marchio Broscia. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di una cifra che si aggira sul milione e mezzo di euro. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il crack della società sarebbe stato pilotato e dietro l'affare del gelato ci sarebbe Michele Micalizzi, 75 anni, genero dello storico capomafia Rosario Ricobono. Micalizzi era tornato a libertà nel 2015 dopo 20 anni di carcere. Nel 2023 il nuovo arresto, secondo la tesi accusatoria, l'uomo d'onore avrebbe esercitato un pervasivo potere di controllo sull'attività commerciale intervenendo in prima persona sia nella scelta del personale da assumere che delle strategie da perseguire a livello aziendale. Il tutto in virtù di un profondo legame fiduciario da cui anche l'imprenditore avrebbe però tratto significativi benefici economici consistiti nella possibilità di espandere sul territorio la propria rete commerciale anche attraverso la costituzione di nuove imprese in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società. Il boss inoltre in più occasioni si sarebbe prodigato per risolvere questioni private dell'imprenditore e nonché per ricercare fonti di finanziamento e nuovi locali per l'apertura di ulteriori punti vendita e garantirgli al contempo la necessaria protezione rispetto a richieste estorsive avanzate da altri esponenti mafiosi. Per tutte le altre notizie ci vediamo dopo. Picchia la madre e i carabinieri è accaduta a Marsala, protagonista della vicenda, un giovane di 19 anni che è stato arrestato. Ricerche senza esito, ancora nessuna traccia del sub milanese d'origine ma residente da tempo nella frazione di Macari disperso nelle acque di Calampiso. Nella morsa dell'AFA continua l'ondata di caldo in Sicilia, nell'isola all'erta arancione per le prossime 24 ore. Estate con noi, la campagna di sicurezza della polizia, ieri ha fatto tappa a San Vitolo Capo per sensibilizzare residenti e turisti sui comportamenti irresponsabili da adottare alla guida. Buona la prima, il Trapani supera la Cavesa all'esordio ufficiale in Coppa Italia. La madre che unisce convegno sulla Madonna di Trapani e Tunisi alla Basilica dell'Annunziata ne parleremo nell'approfondimento di oggi. Buongiorno e ben ritrovati in studio con noi, apriamo subito con la cronaca Picchia la madre e aggredisce i carabinieri, arrestato un giovane marsalese. Vediamo il servizio. Picchia la madre e all'arrivo dei carabinieri si scaglia contro di loro, aggredendoli e ferendone uno. Protagonista della vicenda, un marsalese di 19 anni che è stato arrestato per maltattamento in famiglia, minaccia e resistenza al pubblico ufficiale. A chiedere l'intervento dei carabinieri è stata la madre. Il figlio, infatti, oltre ad aver danneggiato mobili e superlettili dell'abitazione dove viveva con la vittima, l'aveva anche malmenata, stanca di subire le violenze del giovane. La donna lo ha così denunciato. Quando sono giunti gli uomini in divisa, l'indagato non avrebbe citato ad aggredirli, sperrando un calcio allo sterno ad un carabiniere. È stato però subito bloccato e arrestato. Nei suoi confronti, inoltre, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massala ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre. E purtroppo ancora non hanno dato risultato le ricerche del sub disperso nelle acque di Calampiso. Non hanno dato ancora alcun risultato le ricerche del sub disperso nelle acque di Calampiso. Di Raffaele Assin, 67 anni, milanese d'origine ma residente a Macri, ancora nessuna traccia. Ieri nelle operazioni si sono aggiunti i Vigili del Fuoco di Cagliari e una motobarca dei Vigili del Fuoco di Napoli dotata di side scan sonar, impiegati anche a ROV robot subacquei per scandaliare i fondali. Raffaele Assin è un sub esperto e quel tratto di mare rigatente nella riserva dello zingolo lo conosce molto bene. Tutte le mattine, infatti, era solito uscire in gommone per fare delle immersioni. Stessa cosa ha fatto giovedì mattina il gestore del pontile di San Vitolo Capo, dove Assin ormeggiava il natante, non vedendo arrivare per l'ora di pranzo come era solito fare, ha dato l'allarme contattando la sala operativa della guardia costiera. Il battello di Santa San Vitolo Capo ha subito individuato il gommone a largo di Calampiso, dal sub però nemmeno l'ombra. A rendere complicate le ricerche, il fondale che in quel tratto di mare può raggiungere una profondità di oltre 100 metri. Nuovo traguardo social per Telesud che su Facebook ha superato i 70.000 follower. Diverse le novità che sono state messe in campo in queste ultime settimane. Ascoltiamo. Negli ultimi giorni la nostra pagina Facebook ha superato i 70.000 follower. Un traguardo importante che testimonia la crescita della comunità social di Telesud, sempre più seguita con un significativo apporto di contenuti da parte della redazione giornalistica e quelli provenienti dalle trasmissioni e dagli approfondimenti in palinzesto sul digitale terrestre, già aumentato come capacità trasmissive e copertura lo scorso aprile, con il salto sul primo livello 3 mega, il massimo consentito dal MIMIT in Italia, su canale 87 in tutte e nove le province. Un investimento fortemente voluto dal presidente Valerio Antonini per rafforzare il posizionamento editoriale del gruppo fra i principali players siciliani. Da circa un mese quindi, con il contributo della nostra social media manager Serena Giacalone, i profili Facebook ed Instagram hanno adottato un nuovo mood, puntando su contenuti di maggior appeal fra più giovani, parlando un linguaggio al passo con i tempi e sempre più rivolto ai trend comunicativi del momento. Adesso i follower, attraverso le nostre piattaforme, possono scoprire contenuti speciali, tra cui il reel con intervista esclusiva a personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cronaca in generale e soprattutto dello sport, cavalcando nei prossimi mesi l'entusiasmo travolgente dei successi granata del Trapani Shark e Trapani Calcio. Inoltre, sono state introdotte grafiche dinamiche con caroselli dedicate alle notizie del giorno, offrendo così anche al pubblico 2.0 un servizio aggiornato con un taglio maggiormente regionale, raccontando i territori e i fatti locali ma con una prospettiva più ampia. Le novità non si fermano qui, è ormai pienamente operativo anche il nostro canale WhatsApp Telesud, dove gli utenti possono ricevere notizie in anteprima, insomma sempre più ogni giorno con voi, anche su tutte le piattaforme web del gruppo, il nostro sito telesudweb.it, su Telesud Trapani per YouTube e Facebook e Telesud TV su Instagram. Una breve pausa per noi, torniamo dopo. Nella morsa dell'AFA continua l'ondata di caldo in Sicilia, nell'isola allerta arancione per le prossime 24 ore. Estate con noi, la campagna di sicurezza della polizia ieri ha fatto tappa a San Vitolo Capo per sensibilizzare residenti e turisti sui comportamenti irresponsabili da adottare la guida. Buona la prima, il Trapani supera la Cavesa, le sordi ufficiali in Coppa Italia. Adesso parliamo di caldo torrito che sta affliggendo la Sicilia in questi ultimi giorni, continua per l'appunto l'AFA, la protezione civile ha emesso un'allerta arancione per tutta l'isola per le prossime 24 ore. Sentiamo. In Sicilia l'ondata di caldo persistente continua a mettere a dura prova l'isola con temperature che raggiungono picchi di 37 gradi nella città di Palermo, Catania e Messina. Queste condizioni, alimentate dall'anticiclone africano Caronte, hanno portato la protezione civile a emettere l'avviso numero 175 con un livello di allerta meteo arancione. Per il rischio incendi e andate di calore, valido per oggi e per le prossime 24 ore. L'allerta interessa gran parte del territorio siciliano, segnalando una situazione di preallarme. Le condizioni meteo favoriscono la possibilità di incendi e la popolazione invitata a seguire le direttive delle autorità competenti per prevenire situazioni di emergenza. La pericolosità è considerata media nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Raguse, Siracuse e Trapani, mentre a Messina il rischio è classificato come basso. L'anticiclone Caronte, responsabile di queste temperature estreme dell'AFA che avvolge l'isola, manterrà il suo caldo intenso anche nei prossimi giorni con temperature tra i 35 e i 37 gradi e cieli prevalentemente sereni. Condizioni che si protrarranno almeno fino a ferragosto con un continuo rischio di incendi anche a causa della secchezza della vegetazione dovuta alla siccità che sta mettendo a dura prova la Sicilia. La protezione civile ha già predisposto squadre di intervento rapido, e invita i cittadini a non sottovalutare i pericoli associati a questa situazione. E a proposito di caldo, ascoltiamo i consigli del cardiologo Alberto Di Girolamo per difendersi dall'ondata di calore di quest'ultima settimana. Negli ultimi giorni sono molteplici i casi di decessi improvvisi a Marsala, in particolare a mare, un aumento rilevato soprattutto nelle fasce d'età tra i 60 e gli 80 anni, ma anche tra i più giovani, eventi spesso legati a malattie cardiache, che evidenziano la presenza di fattori di rischio vascolari trascurati, di cui frequentemente le vittime non sono a conoscenza prima del loro decesso. Il cardiologo Alberto Di Girolamo offre consigli per affrontare l'estate, evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, monitorare la pressione arteriosa, evitando di sospendere i farmaci anti-ipertensivi, ridurre il consumo di sale ed adottare uno stile di vita sano con attività fisica. Da cardiologo mi permetto di dare alcuni consigli. Siamo in piena estate ed il troppo caldo fa male. Lo sappiamo tutti, ma spesso lo dimentichiamo. È consigliabile nelle ore più calde non esporsi al sole, soprattutto per i cardiopatici, gli schemici e i portatori di fattori di rischio vascolari, che sono il fumo di sigaretta, l'abbondante e cattiva alimentazione, l'ipertensione arteriosa, il diabete mellino, l'ipercolesterolemia, l'obesità ma anche il sovrappeso, la mancanza o scarsa attività fisica, le altre malattie vascolari, l'età, lo stress e l'ereditarietà. Questi fattori vanno corretti sempre, meglio al comparire o evitarli tipo il fumo di sigaretta. Altri come l'età e l'ereditarietà, che non sono modificabili, vanno tenuti sotto controllo. Un altro consiglio che è spesso opportuno dare è se si dovesse avere dolore al petto anche per pochi minuti, possibilmente retrosternale, sia durante uno sforzo fisico, sia al riposo, che si può irradiare al braccio sinistro, ai polsi e alla mandibola, a volte con sudorazione profusa, poiché potrebbe essere l'inizio di un infarto cardiaco. È dunque opportuno chiamare il 118 e farsi portare in ospedale per essere sottoposti a visita cardiologica. Decidere di non andare al pronto soccorso, perché si pensa che forse si potrebbe aspettare qualche ora, è assolutamente sbagliato e può essere deleterio, così come rinviare. Voltiamo pagina alla campagna di sicurezza della polizia. Ieri ha fatto tappa a San Vitolo Capo. Vediamo i dettagli. Estate con noi 2024. L'iniziativa a livello nazionale della polizia ieri ha fatto tappa a San Vitolo Capo. La località balneare, infatti, è tra le 50 località turistiche italiane coinvolte nella campagna estiva, che ha l'obiettivo di promuovere la sicurezza stradale e sensibilizzare i vacanzieri sui comportamenti responsabili da adottare alla guida. A Piazza Santuario, la polizia stradale ha incontrato residenti e turisti per una serata dedicata alla prevenzione degli incidenti stradali, con particolare attenzione ai giovani. Grazie ai numerosi dispositivi di controllo e tecnologie avanzate come etilometri, precursori di ultima generazione e laboratori mobili, gli agenti hanno effettuato controlli per contrastare le condotte di guida rischiose dovute all'assunzione di alcol e stupefacenti. Inoltre, grazie alla collaborazione con Fondazione Agnea e con Autostrade per l'Italia, sarà impiegato anche il laboratorio mobile per accertare su strada lo stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti attraverso analisi di secondo livello. Successo per la settima edizione del premio Canoro Vito Sicomo, l'evento che si è svolto ieri a Vita. Si è conclusa con grande entusiasmo la settima edizione del premio Canoro Vito Sicomo, la Kermess musicale che ha visto la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutte le province della Sicilia. L'evento si è svolto ieri presso il Parco Renda di Vita, animato da un'atmosfera di festa e passione per la musica. Presentato da Giacomo Nicolosi e Mirella Regina, il concorso ha messo in scena le esibizioni di 12 cantanti, ciascuno rappresentante una delle province siciliane. Trapani, Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Messina, Enna ed Agrigento. I partecipanti sono stati accompagnati da un'orchestra dal vivo che ha reso le loro performance ancora più emozionanti. A decretare i vincitori è stata una giuria di esperti del settore musicale. Al termine della serata sono stati premiati i primi tre classificati, ai quali è stata consegnata una scultura in vetro, illuminata e raffigurante lo stemma del Comune di Vita, realizzata da un artista locale. Il primo classificato ha inoltre ricevuto l'opportunità di realizzare e produrre un brano totalmente inedito. Negli anni il premio Canoro Vito Sicomo ha visto un'affluenza di pubblico in costante crescita, grazie anche alla partecipazione di artisti di fama nazionale come Annalisa Minnetti, Fiordaliso e Manuela Villa. Quest'anno il premio ha consolidato la sua presenza come partner del festival nazionale Il Pilone d'Oro, un importante evento che si tiene a Messina da vent'anni e riserva opportunità ai giovani vincitori di concorsi in tutta Italia. La manifestazione ha dimostrato ancora una volta di essere un'importante vetrina per i giovani talenti siciliani, regalando al pubblico una serata all'insegna della buona musica. Per gli appuntamenti sulla nostra emittente alle ore 20.30 e 23 trasmetteremo la finale del campionato di beach soccer di Serie B, Sabbia e di Sicilia, dopo con lo sport. Ed eccoci con la pagina dedicata allo sport. Il Trapani ha superato la Cavese per 0 a 1 nel match ufficiale della stagione. Buona la prima per il Trapani che sabato sera ha debuttato in Coppa Italia di Serie C battendo la Cavese per 0 a 1. Una partita non semplice visto che lo stadio Simonetta Lamberti è uno degli impianti più caldi della categoria e considerando inoltre le numerose incognite presenti alla prima gara stagionale. La formazione di mister Torrisi è scesa in campo col piglio giusto dimostrandosi particolarmente propositiva nella prima frazione. Al trentottesimo assist di Caric per Canute che ha sbloccato il risultato. Nei minuti successivi sono arrivate altre occasioni per i siciliani che però non sono stati capaci di concretizzare. Il Trapani è sceso di tono nella ripresa complice sicuramente la condizione atletica non perfetta. Così la Cavese ha avuto modo di alzare il baricentro rendendosi realmente pericolosa ma soltanto in un paio di occasioni. Al novantesimo ingenuità di Jacopo Gelli difensore Granata intervenuto in maniera scomposta che si è guadagnato la via degli sfogliatoi anticipatamente a causa del doppio cartellino giallo. Buona la prova nel complesso del Trapani che passa dunque al turno successivo di Coppa Italia dove affronterà il Monopoli. Passato sul Foggia per 1 a 2 la gara si disputerà sabato 17 agosto allo stadio provinciale di Trapani con calcio d'inizio fissato alle ore 21. Per maggiori informazioni sui biglietti è possibile consultare il sito www.trapanicalcio.com Soddisfatto della prestazione il tecnico de Granata Alfio Torrisi che così ha commentato la partita. Un Trapani propositivo emerso dal primo incontro stagionale contro la Cavese. L'allenatore Granata Alfio Torrisi e Mahmoud Kanute autore del gol hanno parlato nel post partita. Ascoltiamoli. L'esordio con Vittoria sicuramente le sensazioni sono positive sono belle perché poi vincere aiuta a vincere e inizia a far creare e costruire una mentalità vincente il primo turno di Coppa io ho sempre detto che è una delle partite più complicate e più difficili e lo dicono anche i risultati di questa prima giornata venire qua a Cava non era semplice affrontare la Cavese non era semplice però sono molto soddisfatto della mole di gioco di come si è comportata la squadra e penso che dopo questa prima partita ufficiale possiamo trarre le prime conclusioni ad una parte di precampionato che sta dando sicuramente i suoi frutti sono abbastanza soddisfatto assieme allo staff di quanto visto in campo e quindi ci aspettavamo una prestazione del genere e ne siamo veramente contenti. Abbiamo fatto un primo tempo importante sotto il profilo del gioco, dello sviluppo, della maturità non abbiamo mai sofferto la Cavese dispiace solo che abbiamo chiuso il primo tempo con un gol di vantaggio dispiace solo che dopo il grande approccio che abbiamo avuto al secondo tempo i primi dieci minuti abbiamo avuto due o tre palle e gol per raddoppiare che dobbiamo sfruttare meglio e questo deve essere un punto da sottolineare e su cui lavorare perché in Serie C quando poi le partite non le chiudi alla fine soffri anche se comunque la Cavese ha avuto due occasioni importanti per pareggiare una sul lancio di 50 metri dove non eravamo messi bene Ciotti poteva fare qualcosa di meglio anche se c'è un mezzo fallo e su un'altra situazione con un tiro da fuori che è stato bravo secolini noi abbiamo avuto ancora una volta altre occasioni però non le abbiamo sfruttate fermo restando che nonostante non abbiamo subito tanto dovevamo chiuderla prima alla partita e quindi questo deve essere per noi un oggetto un motivo su cui andare a lavorare perché le partite vanno chiuse e dobbiamo mettere più cattiveria L'importante era la vittoria abbiamo cominciato col piede giusto siamo contenti dobbiamo tornare ad allenarci perché abbiamo un'altra partita in casa tra sette giorni Si è tenuto sabato scorso presso il santuario della Madonna di Trapani un convegno sul tema la madre emigrante che unisce le rive del Mediterraneo alla Madonna di Trapani a Tunisi culto che da più di 130 anni unisce le due rive del Mediterraneo questo è il nostro approfondimento per voi Dopo la partecipazione dello scorso anno alla piccola processione che si tiene ancora nel giorno dell'assunta alla Goulet il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha voluto approfondire il forte messaggio simbolico di questa esperienza frutto della devozione dei fedeli siciliani emigrati in Tunisia che portarono all'effigie della Madonna di Trapani e che ha rappresentato la fede dei piccoli e dei migranti oltre che rivelarsi un elemento di dialogo interreligioso è un dialogo che diventi effettivo concreto tra le due sponde del Mediterraneo proprio in nome di colei che è la Madonna migrante la madre migrante così come noi l'abbiamo chiamata in questo convegno e sono certo che questo dialogo non può che arricchire la nostra diocesi ma arricchire anche Trapani tutta la nostra isola e l'Europa intera all'incontro è intervenuto anche Domenico Mogavero vesco emerito di Mazzara del Vallo che ha partecipato più volte alla conferenza episcopale del Nord Africa e agli incontri sul Mediterraneo organizzati da Papa Francesco la riscoperta di una maternità che nel Mediterraneo ha avuto le sue radici per l'evangelizzazione delle nostre chiese noi abbiamo ricevuto il Vangelo dalla sponda Nord del Mediterraneo e quindi questo nostro ritorno è una quasi una restituzione a quelle chiese dalle quali abbiamo ricevuto la prima parola che è salva e peraltro sono chiese che ci danno dei modelli nuovi per questo nostro tempo dove i numeri ormai sono una opzione obsoleta e quelle chiese si distinguono proprio per un'autenticità che non è fatta di numeri ma è fatta di vita vissuta secondo il Vangelo aprendo le porte a tutti sono chiese che accolgono e che nella maggior parte dei casi proprio per le proibizioni che hanno e per le limitazioni familiari che impediscono la conversione al cristianesimo è fatta soprattutto di cattolici che vengono da fuori e che trovano lì un'accoglienza tale da potersi costituire in comunità che vive il Vangelo e lo annuncia in una dimensione che è fatta di carità ma anche fatta di interculturalità di interreligiosità e dove l'Islam non è non è quella brutta bestia da combattere a qualsiasi costo per non restare soccomventi nel confronto grazie a tutti